Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me è da spostare. Facile a dirlo quando l'hanno già detto gli altri. Se per questo sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Secondo me, da una approfondita, analisi storica e sociologica, quella sedia lì peserà dai 9 ai 10 kg. No, no, no. Da un'indagine il 2% degli intervistati dice che pesa tra i 5 e i 6 kg, il 3% tra i 6 e i 7 kg e il 95%, non lo so, non mi interessa, basta che la spostate. Secondo me per spostarla ci vorrebbe qualcuno che arrivasse lì delicatamente, la prendesse per la spalliera e la mettesse da un'altra parte. No, al punto in cui siamo va spostata assolutamente, in tutte le maniere, anche a calci. A calci, ma questo è profondamente anticostituzionale e antidemocratica. E allora cambiamo la Costituzione. Eh, forse è facile cambiare la Costituzione, ci vorrebbe almeno un referendum. Ehi, e dove si trovano 500.000 firme per spostare una sedia? No, no, no. Beh, allora non c'è altra soluzione, dobbiamo fare le elezioni anticipate. Le elezioni anticipate? No, oggi no, sarebbe troppo grave per il paese. Casomai domani. Rimane il problema urgente della sedia da spostare. Eh, su questo sì, facciamo una commissione. Una commissione di intenti? Eh, così ne possiamo parlare in una bella commissione e vediamo chi può spostare la sedia. Bene, vedi che siamo già d'accordo, abbiamo una commissione di intenti. Perfetto, ne parleremo. Ne parleremo. Perfetto. 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 Perfetto.